Le udienze totali Le udienze di comparizione delle parti La seconda udienze di trattazione E infine udienze di precisazione delle conclusioni Dove il giudizio verrà trattenuto in decisione per le missioni della seconda Io le mando tutta la documentazione Lei la compila, la scansiona Ce la rimanda indietro Al limite quando lei l'ha ricevuta Mi chiama e insieme compiliamo la documentazione Perché soprattutto il questionario Se ci sono delle domande è meglio risolverli telefonicamente Chiunque abbia a che fare con un paziente Sia esso un medico, uno specializzando Deve avere una copertura assicurativa Riguarda solo ed unicamente i medici Che hanno fatto la causa Grazie 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 Grazie